Paolo Scarabossi è un giocatore davvero eccezionale, nonostante l'eliminazione a caldo appena subita, subito pronto, disponibile a farsi intervistare, nonostante un pizzico di delusione per aver visto poche carte non aver potuto fare nulla di più verso la bolla. Sì, ho giocato tutto il torneo da short perché non ho veramente visto niente, ho giocato sette livelli oggi sotto quasi intorno ai dieci bui, purtroppo non ho mai fatto azione, dovevo solo mandare finché sono riuscito a salire un pochino fino a 90.000, però poi comunque ho avuto una serie di mani veramente sfortunate, ogni volta che ero esatto ho trovato sempre asso-asso-kk, asso-asso-kk, tutte le mani, adesso ero un pochino short, ero sui 60, ho mandato con Geggeco, ho trovato asso-asso un'altra volta. Sono 44 player left, 32 andranno a premio, ne abbiamo 8 ancora dentro, ovviamente sai di chi parliamo, facci un pronostico secco, dovessi puntare virtualmente al banco del PPT di Granisca, su chi te lo giochi il centone? Ma a questo punto me lo gioco su Cristiano, blanco, perché visto che mi ha preso le fish poi dalla nostra squadra e ho Roberto Napoli, un po' in difficoltà, però comunque spero Cristiano e lo vedo bene, insomma mi sembra la sua giornata. Per mandarti a dormire con un sorriso, pensa al Toro che ha riconquistato la Serie A. Sperando non sia coinvolto nel calcio scommesso, sperando di mantenerla a lungo.